... Pochi giornali di oggi, venerdì 6 agosto 2021, bentrovati cari telespettatori di Fanotv, questa è la rassegna stampa, allora il commento della stampa del giorno che tra poco inizierà con i giornali Corriere Adriatico del Stato del Carlino, ma come sempre diamo un sguardo al tempo, prima ancora al Santo del Giorno, lo vediamo subito, oggi più che Santo la Chiesa celebra la festa della trasfigurazione del Signore, alle 6.02 c'è stata l'alba, questa sera il tramonto sarà alle 20.27. Velocemente andiamo a vedere il tempo per oggi, allora cielo sereno praticamente su tutta la Regione Marche, a parte qualche nuvoletta in montagna, stessa cosa per la giornata di domani, forse qualche nuvole in più sul Pesarese, per domenica qualche nuvoletta sull'Alconetano e il Pesarese, anche lungo la costa, ma per il resto insomma direi tempo stabile, soleggiato su tutta la nostra Regione. Allora apriamo subito questa finestra, andiamo ai bagni Lido 3 con Marco Giuliani che è pronto già questa mattina, ma tu non hai la divisa da bagnino? Sì, in realtà sì, ho la maglietta Lido 3 con la maglia che ho scritta dietro bagnino, che abbiamo tutti per riconoscerci. Ecco, ma senti, da quanto tempo fai il bagnino tu? No, questo per me è il secondo anno, ma principalmente faccio bagnino a terra, perché la gestione degli ombrelloni, essendo tanti, ha bisogno di molto lavoro, sia manuale, ma anche di apertura della spiaggia, più pulizia. Ecco, ma è una vocazione anche quella di fare il bagnino? Perché si fa il bagnino? No, perché comunque lavorare al mare è comunque molto bello, perché a parte che ti svegli presto la mattina, vedi sempre il mare, poi l'alba, è stupendo. Poi il lavoro stagionale ti prepara comodo. Ecco, tu a che ora ti svegli? Vediamo se ti svegli prima te o io. Io verso le 5 e mezzo. Ecco, mi sveglio prima io. E finisce a che ora? Io dopo faccio i turni, dipende dal giorno, dipende. Ho capito. Allora, dici un po' come sarà il tempo questa mattina per quelli che stanno dalle nostre parti, dalle tue parti. Oggi il tempo è sereno. Non c'è una nuvola, non c'è un filo di vento anche adesso. Mare buono, bandiera bianca, insomma, via. Decisamente sì. Senti, Valentino Rossi ha deciso che smetterà di correre. Sei un appassionato di moto oppure... Sì, l'ho sempre seguito. Un grande protagonista è sempre stato un grande protagonista delle moto. Tanti complimenti a lui. Dispiace un po' però, eh? Si chiude un elico. Sì, dispiace, però dava sempre gusto vedere le corse quando c'era Valentino. Grazie. Allora, apriamo proprio con questa notizia. Grazie Marco a domani. Non vale più, questo è il titolo del Corriere Adriatico, questo poster nell'edizione di Pesaro. Rossi che annuncia il ritiro dopo nove titoli ridati. Viaggio fantastico. Ora mi riconosco in tutto il mondo. La mamma dice ora magari diventerò anche nonna. Mamma Stefania Palma, le 18 di ieri passate, era ancora nel suo ufficio in comune a Tavuglia. La conferenza di Vale mi è piaciuta, mi ha stupito. Questo racconta a Gianluca Murgia. Poi lo shock invece di Tavuglia, il suo paese, il giorno è arrivato a 42 anni. Il dottore ha detto che può bastare a Tavuglia dove un po' se lo aspettavano. Come d'altronde tutti quanti sono emozionati e nel suo regno la leggenda però non finirà. Invece andiamo a vedere come apre il resto del Carlino. La fotonotizia ovviamente è per Valentino che si ritira dal motociclismo. Tavuglia orfana, il sindaco, faremo qualcosa per lui. La favola è finita, questo il titolo. Nelle pagine interne dicevo l'intervista alla mamma del campione di Gianluca Murgia. La troverete sul Corriere Adriatico di oggi in edicola, pagina 9. Stefania Palma mi ha detto smetto, io però ho cambiato discorso. C'è questa intervista che è interessante. Tra l'altro a un certo punto quando dice Gianluca Murgia chiede a Stefania quando vi siete sentiti l'ultima volta? Lei risponde mercoledì sera ma non ho risposto bene, sono rimasta fredda, potevo essere più affettuosa, ammette lei. Mi ha detto domani faccio una conferenza in cui annuncio il ritiro. E io ho fatto cadere la conversazione, il cambiato discorso. Insomma, cosa dicono di lui? Beh, in tutto il mondo ne parlano chiaramente. Gianni Morandi, grazie Valentino, sono sicuro che farai ancora grandi cose. Hai regalato emozioni. Max Biaggi, pilota anche lui. Noi due sempre rivali, ma con tutte le vittorie che ha ottenuto, il ritiro adesso sarà meno amaro. Giacomo Agostini, ex pilota, anche se non hai mai battuto i miei record, dice Vale, resta sempre un campione assoluto. E poi c'è Malagò, il presidente del Coni, ha preso la prima medaglia 25 anni fa, nello sport è qualcosa di impressionante. Il resto del Carlino, una delle tante pagine che oggi i giornali dedicano a questa notizia che, come si diceva appunto, era nell'aria. Tavuglia resta orfano, il futuro è un'incognita, ma in sindaco faremo una cosa grande per lui. La prima cittadina, Francesca Paolucci, dice Vale, ha corso per 30 anni, gli mancheranno le emozioni e sarà così per tutti. Per questo gli dobbiamo un grande riconoscimento. Deve studiare come, ma alle leggende bisogna riconoscere il merito. E in tempo di bilancio, Franco Bertini scrive, se Rossi è fuori, siamo più vecchi anche noi. Ma se da una parte, in uno sport come il motociclismo, un grande campione si ritira, sul fronte invece dell'atletica, il salto in alto, le Olimpiadi di Tokyo, ieri è stata la giornata di festa, di abbracci e di emozioni anche per Gianmarco Tamberi. Lo trovate sullo Sport, sempre del Corriere, a pagina 30. Ieri ha incontrato le autorità, la stampa ad Ancona, al Pala Indoor, raccontando quella che è stata la sua gara perfetta a Tokyo, i suoi timori e le sue certezze. E ora vedo quell'infortunio come una benedizione. Quel giorno magico era tutto scritto. Allo stadio ho portato una borsa con i vestiti per fare la premiazione. Con Barsim l'avevamo sognato, vincere insieme la medaglia d'oro. E andendo sempre più verso il basso, qui veramente siamo molto in basso, il Fano non ci sta e fa ricorso. Il club Granata spiazzato dall'estromissione dei ripescaggi per la Serie C, era tutto in regola. Anche il Comune si unisce alla società che adesso si rivolgerà al Collegio di Garanzia del Coni. Il DS Agliano, dice la figlia di uscione, per noi è a posto. E l'impianto di illuminazione dello stadio è assolutamente a norma. Tra l'altro è stato rifatto da poco. Ma le speranze sono a lumicino. Così si rischia anche di non fare addirittura la Serie D. E su questa doccia fredda per i tifosi dell'Alma, Juventus-Fano, c'è l'apertura nelle pagine locali e quindi non solo sportive, ma anche la pagina di Fano del resto del Carlinio. Il titolo è Alma in Serie D, sciocche e amarezza in città, piovono messaggi di disorientamento e ironia. I tifosi se la prendono con la società e l'amministrazione comunale ed è polemica. Quindi addio ripescaggio, ma già si pensa al ricorso per riconquistare il sogno del D. E poi Gabellini, l'ex presidente dell'Alma Juventus-Fano, che ha mollato il Fano qualche anno fa, non l'anno scorso, ma quello precedente. Gabellini che dice ennesima brutta figura, mentre Panaroni questa è una sconfitta, il consigliere del Movimento 5 Stelle. Chiaramente Gabellini, ormai lo sappiamo tutti, e queste dichiarazioni sul giornale con l'aiuto del Carlino stanno a significare che ormai è ufficiale, si candida a diventare sindaco della città di Fano. Ci proverà, ovviamente. E quindi racconta e spiega ad Anna Marchetti un po' di retroscena, dove non manca, e qui appunto la butta in politica, ha anche qualche frecciatina nei confronti dell'attuale amministrazione e soprattutto dell'assessore Fanesi. La vicenda di quel gestore della Sassonia, siamo sempre a Fano, lungo mare, che a un certo punto ha cominciato a sparare i fuochi d'artificio dal tetto di una terrazza di un vecchio albergo in disuso, tiene banco a pagina 15 del resto del Carlino e si difende il gestore che ha sparato questi fuochi e dice che i fuochi erano regolari. Dopo gli episodi di martedì notte, Raffaello Caccese narra la sua versione. Lo ha fatto anche ieri nel corso del nostro telegiornale, quindi se volete ascoltarlo e vederlo anche come se fosse appunto dal vivo, vi invito a guardare le repliche sul nostro canale 17, alle 11 più o meno e alle 13 e 45, oppure sulla nostra pagina occhianotizia.it. E lui dice subito che non ha ricevuto nessuna denuncia, non c'è alcuna indagine a mio carico in corso, né di polizia né di carabinieri, perché i fuochi che ho sparato in sostanza erano regolari, di categoria F2, assolutamente non pericolosi e progettati per non fare fumo, né far arrivare residui a terra. E quindi si domanda anche per quale ragione tutto questo trambusto, sono stati sparati alle 22 e 20, non alle 23 come è stato scritto. Insomma, anche in televisione ha detto che probabilmente qualcuno che insomma c'era un po' con lui e che non è contento di come ha gestito un po' la situazione. Sempre da Fano invece, sul Corriere Adriatico però questa volta, barca straniera al porto turistico, scattano controlli e la maximulta, batte bandiera della Nuova Zelanda, sono scaduti i termini per l'ingresso nelle acque italiane e dunque c'è stata questa maximulta. Sotto invece Franchini, società integrate per avere più risorse, il consulente del sindaco illustra lo scenario per Aset e Marche Multiservizi. Il volley, siamo nella pagina di Urbino, torna in città, Megabox al Palacarneroli, nel palazzetto le campionesse di Serie A1 disputeranno partite di campionato, Coppa Italia oltre a sedute di rifinitura, a Vallefogli invece si alleneranno. E poi un'interrogazione dei consiglieri a Urbino di minoranza, Londè e Cangini, su quei busti rovinati che sono indegni. Il Comune quando farà il restauro? E ancora, dalla pagina della Valmetauro, la cronaca, cade dalla bicicletta, è grave. Un ciclista di 73 anni, soccorso esanime sulla pista Marconi, pista Marconi è a Fano, ricoverato in prognosi riservata, difficile anche l'identificazione perché non aveva con sé addosso i documenti, in corso le indagini per capirne le cause. Poi ancora paura per un furgone che in retromarcia, sempre a Fano, getta a terra una donna, è successo ieri mattina intorno alle 8.30, poi sotto Fossombrone in cerca di idee per la rinascita, i progetti dei candidati all'amministrativa accendono il dibattito. A Senigallia, raffica di borseggi al mercato, spariscono anche due biciclette, almeno sei colpi, portafogli ritrovati vuoti, nel merino turisti e donne che prelevano il Bancomat. Poi sono intervenuti i carabinieri invece al ristorante La Lampara dove c'era una famiglia che non voleva pagare il conto del ristorante perché giudicato troppo salato, troppo alto e dunque è scoppiata una lite. Blitz al pattinodromo, bimbi senza acqua, qualcuno ha staccato le utenze del team roller, quindi disagi, procurando disagi per i centri estivi e poi scontro con un cinghiale sempre dalla pagina di Senigallia, questa volta però siamo ad Arcevia, in via Fonti di Berlenga, intorno alle 9 del mattino c'è stato questo scontro tra un motociclista e questo cinghiale. Ad avere la peggio è stato il motociclista che poi è dovuto andare all'ospedale. Andiamo a Pesaro invece, Viale Trieste sarà proibito ai vandali per un anno. I vandali sono quelli, sono i due uomini che sono accusati di aver devastato un totem pubblicitario durante la festa degli europei. L'obbligo di firma tre volte la settimana. La polizia dice incitavano anche i passanti a fare altrettanto. Poi c'è una notizia in breve, sempre di cronaca, un bimbo che è rimasto chiuso in casa, in un appartamento di corso 11 settembre verso le due del pomeriggio di ieri e sotto invece deve scontare la pena arrestato un cinquantenne finisce in carcere a stato il palo della rapina al Troni. Una rapina di cui i giornali hanno parlato perché ma un diverso tempo fa perché parliamo di una rapina avvenuta il 26 novembre del 2018. Questa invece è una notizia che non piacerà molto perché in ass o meglio piace perché vuol dire che i carabinieri soprattutto il nucleo antisofisticazione che gestisce questo tipo di operazioni è sempre in azione per la nostra sicurezza e anche per farci mangiare qualcosa che non sia cattivo. Ma la brutta notizia è che molti ristoranti soprattutto di quelli che lavorano in spiaggia non erano in regola. I controlli hanno riguardato tutta la regione Marche e il NAS trova di tutto in questi ristoranti in spiaggia cibi avariati mal conservati sporcizia sequestro di pesce e anche multe i controlli fatti in tutte le Marche e sanzioni anche nella città di Pesaro. Quindi se ecco siete abituati ad andare a mangiare al ristorante fuori anche al mare ecco forse questo articolo a pagina 8 oggi del resto del Carlino fa per voi. Paura sul San Bartolo albero si abbatte in strada guardate la fotografia un albero caduto ieri sulla panoramica per il forte vento che è soffiato per tutto il giorno un albero che improvvisamente ieri pomeriggio è caduto e sullo sfondo c'è anche una macchina per fortuna i tempi non hanno coinciso. Maxi rogo invece a Iesi colline divorate dal fuoco il vento brucia 400 ettari di terreno anche in questo caso il vento ha fatto la sua parte le fiamme partite da un cantiere di Ile di Maiolati scintille dagli arnesi identificati due operai lavoratori in nero invece a Sant'Angelo in Vado nel laboratorio scatta la chiusura con tanto di maxi multa controlli dei carabinieri a Sant'Angelo in Vado nei guai un'azienda del tessile gestita da cinesi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito l'appuntamento con l'informazione su Fano TV è per questa sera alle 20.30 ma naturalmente se volete essere sempre informati su ciò che accade nella nostra provincia nella nostra città l'indirizzo è sempre lo stesso occhionanotizia.it arrivederci a presto a presto Grazie a tutti